Tunisiani! In questo video cercheremo di sopravvivere su questo pianeta alieno e di esplorarlo, eh? Cosa ne pensate? Guardate quanti colori, quanti animali molto simili a quelli che ci sono sulla Terra. Per esempio questa è una pecora molto sospetta, perché questa è una pecora aliena in realtà. Non fatevi ingannare da quegli occhi strabici che ha anche sulla Terra, assolutamente no! No, voi dovete concentrarvi sul fatto che qua siamo in un pianeta alieno e come tale, come tale, dobbiamo esplorarlo e quindi dobbiamo capire se ci sono altri alieni, diversi magari da quelli che ci sono sulla Terra. Non che sulla Terra ci siano alieni, eh? Dico, no, cioè noi abitiamo sulla Terra, siamo esseri umani ma su altri pianeti dove ci sarà la possibilità di vivere, ci saranno altre, no, specie di vita. E proprio come, diciamo, nella vita reale, no, dove ci sono altre specie di vita, anche qua su Minecraft ci saranno anche altre specie di vita. E' stata un po' complessa da spiegare. Nel caso taglio tutta quella parte perché mi imbarazzo, però guardate qua. Questa è un pianeta un po' strano perché praticamente queste sono torte e voi direte, ma scusa Dunis, ma non è normale che ci siano delle torte. Infatti, anche secondo me non è normale, dice white icing, eh? Perfetto, è tipo una torta congiata, che schifo. No, 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 eh, no, sono intrappolato dentro questo coso schifoso. Poi mi arrivano le notifiche sull'iPad, ma cosa me ne può fregare di meno? Però sapete cos'è bello? Che ci sono le torte su questo pianeta. Praticamente questo, diciamo, è un bioma delle torte, no? Molto bello, devo dire. E poi le cose sono fatte di minerali qua. Ci sono degli alberi di ferro, per esempio. L'avete visto prima che c'era il diamante? Cioè, non so se voi l'avete visto in realtà. Penso di... no, non mi ricordo. L'avete visto? Ma scrivete nei commenti se l'avete visto che io non mi ricordo. Ma vabbè, ma scusate, ma io ho appena notato una cosa. Cioè, io ho appena notato una cosa molto importante. Oltre al fatto che qua la gravità è diversa, vedete? Perché ovviamente saltando, eh? Cioè, vedete, non si cade così. Però praticamente questo è completamente... Cioè, le foglie sono fatte di ferro. Cioè, porca miseria, ma che bello che è questo pianeta. Cioè, scusami, praticamente con qualche foglia qua ci facciamo... Ci facciamo un'armatura completa in ferro. Mi state dicendo questo? Voi siete pazzi. Pazzi completamente. Ma che bello, ma scusate. Ma io voglio vivere su questo pianeta. Anche nella vita reale, pensate voi. Qua invece cos'è che c'è? Ah, qua esatto, si può metterle tutte. Perché dovete sapere che non è che c'è solo questo pianeta in questa mod. No. Ci sono un sacchissimo di pianeti che possiamo esplorare. Oh, porca miseria. Sono caduto. Ops. Quindi possiamo esplorare un sacco di pianeti. E porca miseria, cioè, bellissimo, no? Perché, ovviamente, possiamo esplorare e trovare un sacco di altre cose nell'universo. Però, se non ho il legno, come caspita faccio. Perché qua gli alberi sono fatti di materiale di questo tipo qua. Tipo di diamanti, no? Cioè, io sono scioccato, eh. Perché nel senso... Chi è che non vorrebbe avere, diciamo, degli alberi in diamante? Beh, tutti, no? Perché... Ma è bellissimo. Cioè, è bellissimo. Chissà come mi sono apparsi questi... Questi... Diciamo... Questo legno. Chissà. Boh. So, voi avete visto qualcosa? Perché io non ho visto niente. Cioè... Non so se voi avete visto qualcosa. Veramente. Io ho preso... Ma scusate, ma come usate fare queste critiche? Io, ovviamente, non l'ho preso dalla creativa. No, no. No. Cioè, veramente, ma perché sto facendo tutti questi picconi? Non ne ho idea. Comunque, adesso andiamo a prendere i diamanti che stanno qua sopra. Perché voi dovete sapere che non è che possiamo lasciare indietro i diamanti. Cioè, scusate, ma sono foglie fatte di blocchi in diamante. Di blocchi in diamante. Non so se ci siamo ben capiti. Blocchi di diamante. Cioè... Cioè, vi rendete conto? I blocchi in diamante? Porca miseria. Cioè, perché? Perché io non ho alberi di questo tipo nella vita reale? Ma, cioè, anche io voglio... Scusate, Dunisiani, ma... Cioè, possiamo fare una petizione? No agli alberi brutti, solo agli alberi belli? Cioè, nel senso, solo agli alberi belli, quindi con diamanti... No, aspettate, però. Gli alberi sono assolutamente bellissimi, perché se fossero in diamante non produrrebbero, diciamo, ossigeno. E questa cosa non è buona. Eh, quindi, scherzavo, voglio gli alberi normali, quelli là, no, con le foglie. Eh, esatto. Però, noi in 5 minuti, praticamente, sì, giusto. 5 minuti abbiamo già fatto un armatore in diamante su questo pianeta. Eh, magari l'overworld normale di Minecraft fosse così. Magari. Sarebbe bellissimo. Eh, beh, però, adesso continuiamo a visitare questo pianeta, perché sono tutto quanto curiosissimo. C'era legno. Ops. Vabbè, ehm... Infatti, io ho preso da qua questo legno. Voi cosa ne pensate? Cioè, cosa dite? Ho preso il legno da qua, no? Sì. Allora, però, guardate che bello. Eh, porca miseria, questo è il bioma dello smeraldo. Il bioma, tutto quanto bellissimo. No, c'era troppo legno, a dire il vero, su questo pianeta. Beh, eh, giustamente, anche su questo pianeta c'è il legno, no? Però, ora mi chiedo, ma come sarà? Come saranno, tipo, gli altri biomi? Io qua ho visto, come saranno le caverne, per esempio, di questo pianeta, eh? Qua ho visto questa cosa qua, che secondo me, secondo me, è un dolce. Ma io non so se posso mangiarlo. No. Non è che posso trasformarlo, tipo, forse posso metterlo qua e trasformarlo. No. Eh, non so. Però, posso sapere se vado giù in miniera, ecco, tipo qua. In teoria c'è la miniera, giusto? Esattamente. Esattamente sì. No, scherzavo, non c'è la miniera. Vabbè. Ehm... Ok. Sto facendo delle figuracce. Eh, trovato! Trovato, perfetto! Allora. Attenzione. Vabbè, no, tanto noi abbiamo... Abbiamo le cose, abbiamo l'armatura in diamante. Tanto ce le siamo fatte in 5 secondi. Che caspita, ce ne frega noi. Ma sì, ma muori, stupido. Però, scusate, posso dire che a me sembra che questi zombie... Ah, no, non sono gli zombie e la spada in pietra che fa schifo. Ma mi sa che questi alieni schifosi fanno un po' troppo schifo qua. Eh, signori, posso... Potete smetterla, per favore? Mi state dando solo fastidio. Non mi state facendo niente, letteralmente. La smettete, per favore? Va bene, ok. Va bene, ok. D'accordo, no, l'avete voluto voi. E ora, ora morite. Ora morite tutti. Dove siete? Forza. No, io non sono qua a perdere tempo, ok? Cioè, mi sembrava ovvio che io non fossi qua. Ah, poi, fra l'altro, questo pianeta si chiama Kepler-22b. E sarebbe la pietra di Kepler-22b, si chiama. Ovviamente, nella vita reale, non è così, questo pianeta, eh. È simile alla Terra, è più o meno simile che ci sono... Cioè, penso ci sia anche vegetazione. Ma... Ma, non è così. Cioè, nel senso, non è così, nella vita reale. Ehm... Porca miseria, non ho le torce. E no, no. C'è lo scheletro. E muori, ma chi... Cioè, cosa vuoi, scheletro schifoso? Comunque, se avete visto, duenisiani... Eh, ora ho le torce. E... È stato, ovviamente, eh... Strizza la pizza. No? Cioè, voi sapete, è stata Strizza la pizza che è stato... Scusa. Sta... Cioè, ovviamente è stato. Kepler-22b-copper. Ah, questo sarebbe il copper, capito? Il... Il rame che c'è pure su Kepler-22b, addirittura. Non penso... Cioè, nel senso, nella vita reale non lo so. Non ci sono mai stato io là. Ma potrebbe essere come potrebbe non essere. Non so se ci... Se ci andate nella vita reale e ci fate visita, scrivetemelo, eh. Sono curioso. Sono curioso di come... Fate... Mandatemi anche delle foto, magari... Non lo so. Tipo nei commenti di TikTok. No, no. Ti possono mandare... Vabbè. Su Instagram, per esempio. Andate nel mio... Comunque è sotto in descrizione nel mio Instagram. Oppure potete scrivere dunis.02. Mi chiamo così. Comunque, questo pianeta... Oh, caspita. È stato allargato un pochino. Siamo giunti verso la fine, no? Di questo video. Oh, porca miseria. Ma guarda che bello qua. Ma... Ma è bellissimo. Porca miseria. Oh, mio Dio. Qua ce l'ho... Ma sapete, se fosse così... Se fosse davvero così questo pianeta... Ma sapete quanto... Quanto varrebbe un pianeta così? Con gli alberi in doro, in diamante, no? Vabbè, dunisiani. Comunque siamo arrivati... Siamo giunti alla fine di questo video maestosissimo. È stato bello da registrare. Scrivetemi se volete vedere altri episodi di questo tipo. Molto bello, secondo me. Molto belli. Però dovete scrivermi lo vuoi, no? Perché dunisiani. Poi dopo io mi arrabbio anche con strizzare la pizza. Poi lo picchio, no? Scherzo, ovviamente. Non picchiate strizzare la pizza. Io ho pure una... Oppure una risata strana. Scusate. No, vabbè, no. Scusatemi. Mi sta prendendo lo sclero mentale. Poi qua, porca miseria. Mi sa che abbiamo altre cose da visitare. Eh? Guardate qua. Eh? Ci dovrebbe essere una nuova serie. Però non vi dico niente. Però una nuova serie futura, però. Riguardo, ok? A questa mod. Eh? A questa mod. Diciamo, alla stessa mod che tipo la... Galactic Craft, ok? La Galactic Craft mi pare che si chiami. E quindi questa mod qua, eh? Capito? È molto bella perché... Ti permette di fare video molto belli su... Indovinate su cosa se siamo con i pianeti e lo spazio. Beh. Beh, non è che ci voglia un genio, no? Però. Però. Somma. Cioè. Caspiterina. Caspiterina. Potrebbe essere molto bella come serie. Comunque. Tunisiani. Non mi dilungo oltre. Grazie per aver guardato questo video. Se siete arrivati fino a questo punto del video, scrivete unghie nei commenti. Così. No, giusto per. Unghie. Unghie. Grazie per aver... Eh, ripeto. Vabbè, ciao. Con lo schiocco... Sono fuso completamente. Con lo schiocco magico di Dunis. Ci vediamo al prossimo video. Ciao, tunisiani. Iscrivetevi e mi raccomando. Iscrivetevi e mi raccomando.